Una bimba di poco meno di due anni è finita al pronto soccorso dopo aver ingerito una sostanza stupefacente nella sua abitazione di Giuliano in Campania, in provincia di Napoli. È accaduto la scorsa notte, la piccola è stata trattenuta in osservazione nell'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli e per fortuna non è in pericolo di vita. In ospedale sono giunti i carabinieri che indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. È stato proprio il padre ad avvisare il personale sanitario circa la possibilità che sua figlia avesse ingerito della droga. Dalle analisi eseguite dai sanitari è poi emerso che la piccola aveva assunto hashish o marijuana. All'alba i carabinieri della stazione di Giuliano, dopo essere intervenuti all'ospedale, hanno perquisito l'abitazione giuianese dove la piccola abita con i genitori, dove sono stati trovati e sequestrati 2,3 grammi di hashish. L'uomo è stato dunque denunciato per lesioni personali colpose ed è stato segnalato alla prefettura quale assuntore di stupefacenti. La vicenda finirà al vaio dei servizi sociali competenti per il territorio. La bambina fortunatamente adesso sta bene. Per lei la prognosi è di due giorni.